Siamo con Giovanni alla Cascina Ronchetto dove dal 2005 si produce Pascal ma in realtà tutti i vini di Ronchi Varesini. Ce la racconta un po' questa storia? Dunque nel 2000 e 2001-2002 sono stati fatti i primi impianti di Barbatelle e nel 2005 si è stata riconosciuta l'indicazione geografica tipica quindi l'indicazione geografica protetta poi successivamente e noi siamo stati tra i primi ad avere riconoscimento quindi Pascal è un vino di Varese, Morazzone, 13 gradi, 6 mesi di maturazione in legno 6 mesi di bottiglia prima della sua commercializzazione e via via nel corso degli anni ci siamo migliorati abbiamo cercato di ottenere un prodotto sempre meglio fino ad arrivare al materno che fa 12 mesi e a botte 13 sempre Merlot con 18 mesi di legno con un buon riconoscimento a Lugano e in mondiali di Merlot e novità arriva lo spumante? Novità arriva lo spumante perché già due anni che facciamo un bianco da Merlot vinificato in bianco e chardonnay e quest'anno è il primis proprio e assoluta questo gibilè vino spumante metodo Martinotti di Varese Grazie 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 Grazie